Sono 10 nuovi casi di positività al covid-19 di età compresa tra 3 e 84 anni registrati nella giornata odierna in regione su 752 tamponi analizzati. Con questo aumento diventano in totale 3.662 coloro che dall'inizio dell'emergenza hanno contratto la malattia. La buona notizia è il numero stabile dei decessi che rimane fermo a quota 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.848 dimessi e guariti più 4 rispetto a ieri di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 2.836 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti sono 342 più 6 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 148.901 test. 33 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 308 più 7 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 350 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 5 rispetto a ieri, 900 in provincia di Chieti, più 1.676 in provincia di Pescara, più 2.702 in provincia di Teramo, più 1.31 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.